La premessa è che ogni tipo di azienda legata ai servizi con poche persone di fatto difficilmente sarà un'azienda impostata come azienda fin quando non si aumenta il numero di persone che lavorano. Attenzione, l'ascolto di questo podcast è raccomandato a imprenditori e professionisti. L'ascolto prolungato potrebbe provocare incazzature, voglia di licenziare tutti e l'ingrossamento del conto in banca. Imprendi Life, un podcast per gli imprenditori, con Pier Nicola De Maria, autore di Efficacia Personale, se solo ti lasciassero lavorare e fare, creatore di Imprendi Life. Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Imprendi Life. Oggi abbiamo un ospite, si tratta di Giuseppe. Ciao Giuseppe. Buongiorno, ciao a tutti. E come al solito introduco un attimo quello che facciamo all'interno di questo podcast. Quando anni fa ho deciso di creare il mio podcast nel quale sarei stato da solo, mi sono reso conto che per me registrare e parlare per un'ora da solo era noioso e quindi ho creato un podcast speciale nel quale intervisto imprenditori ed insieme proviamo a mettere in pratica alcune delle idee della mia metodologia Imprendi Life per aiutarli a migliorare il loro business. Tutte le volte faccio questa cosa praticamente alla cieca. Io e Giuseppe vi ho parlato tre minuti mentre venivo qui in macchina, quindi non so assolutamente nulla di quello che fa ed insieme inizieremo un attimo ad esplorare quello che succede all'interno della sua azienda e capire anche in che modo può utilizzare alcune delle metodologie che ho messo, ho creato negli ultimi anni per migliorare i suoi risultati. Ora, quello che so di Giuseppe è che ha una società che si occupa di informatica, questo me l'ha detto, soprattutto di sicurezza, ma detto questo Giuseppe ti lascio introdurre quello che fai, la tua società, come è composta, come funziona, e poi da lì iniziamo una conversazione tranquilla per vedere un attimo quali sono i punti che mettendoli un attimo, cioè terandoli in maniera diversa possono consentire alla tua società di crescere in termini di fatturato, grandezza di dimensioni, ma anche e soprattutto di utili e di tranquillità personale per te. Vai pure Giuseppe. Allora, intanto saluto tutti. Io la definisco sempre una piccola società di informatica, adesso siamo in sei, cinque e mezzo, ecco, ultimamente, proprio recentemente abbiamo preso una ragazza part-time che ci dà una mano nella parte di amministrazione. Diciamo che è fondata con un mio socio, tutte e due molto operativi, e quindi c'è sempre questa commissione tra operativo e imprenditore, diciamo più operativi che imprenditori. però è diversi anni, insomma, c'è pure un'età rispetto agli ospiti che hai un po' più alta, però diciamo che abbiamo trovato un certo equilibrio. Devo dire che noi ci occupiamo di sicurezza, soprattutto di assistenza tecnica e di sicurezza informatica. Avevamo anche un settore che si occupava di software gestionale, dove, diciamo, io sono abbastanza esperto, ma in realtà l'abbiamo ceduto due o tre anni fa, ma proprio perché è un tipo di lavoro che poi dopo tutti questi anni... Ma lo faceva, era un vostro software? No, no, sempre come concessionari. Cosa era? Che software era? L'ultimo su cui abbiamo lavorato era della NTS informatica, un software gestionale per le aziende, quindi che è un ERP, in effetti, molto completo. Per cui questo, tra l'altro, l'ho fatto, cioè lo faccio ancora da molti anni, ed è la classica situazione dove vado nelle aziende e il software è uno strumento, poi attorno al software c'è una parte di consulenza, Certo, anche perché, insomma, è quello il business, cioè se il software è fatto da un altro, vuol dire che guadagni dai servizi ancillari al software. Quel valore aggiunto che normalmente porto per la parte mia in azienda, poi non lo faccio nella mia. Allora, per esempio, il controllo di gestione, no? Cioè, è una cosa che conosciamo bene, ma lo applichiamo agli altri. Ma anche perché, in realtà, finché uno non trova il ruolo esatto, ed è questo, diciamo, il cambiamento che stiamo facendo, cioè di passare da operativo a imprenditore. Quindi, dicevo, comunque l'abbiamo ceduta. Io ho continuato a seguire questi clienti nella società a cui è stato ceduto il pacchetto. Ah, ok. E adesso, da quest'anno, sto cercando di rientrare in azienda, quindi di avere un ruolo da imprenditore. Quindi, sostanzialmente, fino all'anno scorso, hai avuto un ruolo promiscuo, nel quale eri il proprietario della tua azienda ed eri un consulente dell'azienda che aveva comprato il tuo pacchetto software, il tuo pacchetto clienti, scusami. Ok, e adesso stai ritornando per avere un ruolo da imprenditore. Non completamente, perché naturalmente stiamo facendo questo passare. Allora, Giuseppe, io voglio fare qualche premessa, anche proprio di... generale, no? La premessa generale che faccio è che ogni volta che registro un podcast parlo con te cosciente del fatto che mi stanno ascoltando qualche migliaio di altre persone che sono quelli che ascoltano tra le varie versioni, YouTube, eccetera. Quindi la prima cosa che mi devi permettere è di fare delle considerazioni generiche che possono essere anche dei passaggi che voi avete già fatto, no? Quindi dicono, questo l'ho già fatto, ma io in realtà non lo sto dicendo a te, lo sto dicendo a tutte le persone che mi ascoltano. Quindi permettimi questa cosa, cioè, se ti dico una cosa che può sembrare banale, non è per te, perché non è che devi pensare che sono scemo, e in realtà lo sto dicendo a tutte le altre persone alle quali magari mancano i passaggi intermedi che per te sono scontati. Quindi questa è la premessa della premessa. La premessa è che ogni tipo di azienda legata ai servizi con poche persone di fatto difficilmente sarà un'azienda impostata come azienda fin quando non si aumenta il numero di persone che lavorano. Quindi lo so che sembra un controsenso rispetto a quello che dico, però rispetto a quello che dico di solito. Però la problematica è questa, che nel servizio, ora poi esistono vari modi di farsi pagare, però alla fine il billable, cioè l'elemento che tu vendi, pagato in un modo o pagato nell'altro, è sempre la manodopera. Poi è una manodopera intellettuale, poi magari diamo un fisso per lavorare senza andare a fatturare al cliente le ore, però il conto che fa in testa è quante ore ho che posso vendere, quanto riesco a vendere, perché anche se fosse un contratto senza orari, tu devi sapere quanto ti costa. Per sapere quanto ti costa fai un'approssimazione mentale e dire, beh, sto contratto più o meno mi prende una mezza giornata per collaboratore all'anno, quindi lo faccio così, sono delle medie. Cosa significa? Che in un'azienda da sei persone è dove due sono imprenditori e una fa la segretaria, di fatto diventa complesso far, tra virgolette, mangiare sei persone con i soldi che possono produrre tre. E' per questo che in queste dimensioni di azienda, molto spesso gli imprenditori hanno ruoli promiscui nei quali offrono anche loro un servizio, o comunque sono coinvolti in parte del servizio magari con attività di più alto livello. E che proprio non c'è la dimensione adatta per poter generare con le persone che lavorano abbastanza quantità di lavoro proprio da pagare chi è sopra. Cioè un'agenzia di marketing, tanti clienti con tre persone, il titolare dovrà sempre fare una parte di lavoro. Magari può fare quello ben pagato, magari può fare quello più alto livello di coordinamento, ma sarà sempre inserito in una parte di produzione del processo del servizio per una semplice questione di dimensioni. Cioè non puoi avere tre persone che producono qualcosa di non billable su sei che lavorano in totale, perché non arriverà mai ad avere a quel livello di margine il lavoro che fa un'altra persona tale da pagare lui, te e far rimanere un po' di spese, un po' di utili aziendali. Quindi ho fatto questa piccola questa piccola premessa, perché quello che tu vedi come un devo fare un po' l'imprenditore, in realtà è sostanzialmente quello che sostiene l'azienda. cioè se non ci fosse questa cosa di te e del suo socio che fate delle parti operative, non ci sarebbero gli economics tali da tenere in piedi una microazienda che produce servizi. Dico questa cosa, ti ripeto, per te, ma soprattutto per le altre persone, perché così come è un errore quello di cercare di essere presenti nella parte operativa ai fini della crescita dell'azienda è anche un errore quello che fanno altre persone di pensare ad essere mega imprenditori e quindi io non faccio niente o solo lo staff prima di avere gli economics da potersi permettere di avere un tizio che di mestiere non fa niente, cioè che di mestiere fa solo le cose di alto livello anche perché diciamo tra noi cioè che cazzo devi strategizzare otto ore al giorno che ti siedi lì io in mezz'ora riempio in una lavagna con cose da fare che ci vogliono tre anni per farli e poi a un certo punto ci vuole la gente che lavori, no? Che lavora. Quindi questo è un primo pezzo che ho dovuto mettere come premessa perché mi apre la considerazione al secondo pezzo che invece molto spesso è sottostimato e cioè visto che non c'è la dimensione per essere completamente fuori dall'operatività perché altrimenti non cioè non ci sono le economie che lo sostengono qual è la tipologia di operatività che e qual è la tipologia di servizi che potete offrire nei quali essere coinvolti che hanno la maggior parte di valore aggiunto. Cioè ti faccio un esempio prima parlavi del controllo di gestione nel mio caso io sono attivo nella mia società di colunzulenza al lavoro genero la maggior parte dei dei soldi che entrano entrano per me però io proprio per questo motivo io per ogni prodotto utilizzo come unico vincolo quanto vale una mia ora se sono coinvolti in quella tipologia di prodotto o servizio e tutti quelli che hanno un valore orario basso semplicemente non vedono mai la luce cioè ci sono tantissime idee tantissimi prodotti tantissimi servizi che potrebbero tra virgolette cubare ma che danno per me un valore orario basso e tu non sai che sono nella mia testa perché semplicemente non escono nemmeno quindi un modo nei servizi per gestire questa cosa è lavorare intorno al utilizzo come vincolo da ottimizzare del tempo dell'imprenditore perché quella dall'altra parte è il blocco principale di crescita nelle aziende di questo tipo quindi ho fatto questa premessa ti ripeto generale anche soprattutto per le altre persone che ascoltano e tra parentesi non ti ho nemmeno parlato le tue problematiche quindi mi sono semplicemente attaccato alla cosa perché mi hai detto questa cosa quasi con dei sensi di colpa tipo io non faccio un imprenditore ma in questo momento però come funziona la tua azienda cioè qual è effettivamente il tuo ruolo il ruolo del tuo socio tipologie di servizi e clienti che offrite ok allora parto proprio da quello che hai detto perché in effetti questa è una cosa che noi ci siamo resi conto anche perché la mia attività fino all'anno scorso era diciamo quasi a tempo pieno un lavoro operativo da un'altra parte nel senso che in effetti non servivo in azienda è stato sufficiente alcune attività diciamo di lezione anzi è andata meglio quello infatti lo dico sempre ai miei collaboratori che in questi anni che non ci sono stato l'azienda è cresciuta quindi abbiamo trovato il sistema per fare la crescita nel senso non ci sono io allora questa cosa ce ne siamo resi conto tante attenzione però tornando alla cosa prima c'è sempre a dire che però venivi pagato da un'altra fonte eh certo sì sì certo perfetto ecco conferma esattamente quello che dicevi durante la pandemia noi come tutte le società di informatiche abbiamo avuto una crescita a livello di fatturato la cosa che abbiamo deciso è stata questa visto che c'è questo momento di crescita accompagnamola e stabilizziamola infatti il nostro obiettivo oggi cioè già da un paio d'anni è quello di stimolare questa crescita proprio perché vogliamo rendere l'azienda più grande quindi autosostenibile quindi questa cosa ce l'abbiamo chiara infatti l'obiettivo principale è quello di aumentare i clienti o comunque i servizi adesso ti spiego in effetti noi stiamo cercando di lavorare soprattutto sulla parte di sicurezza informatica dove forniamo una suite di servizi con monitoraggio che tra l'altro è quella che è più scalabile nel senso noi all'aumentare di questo tipo di clienti di questi servizi diciamo il personale è abbastanza contenuto nel senso abbiamo molto spazio quindi su quella stiamo puntando poi facciamo servizi di assistenza abbiamo molto spazio significa che abbiamo come vincolo l'ora uomo a un livello di redditività molto alto perché magari ci sono dei tool dei software che fanno la parte di per esempio di monitoraggio di protezione quindi addirittura inserendo questi sistemi si riducono diverse diversi rischi quindi anche problematiche di blocchi eccetera perché c'è una protezione diciamo è un'attività molto preventiva questa cosa la facciamo anche nei servizi di assistenza tecnica quindi il focus è sempre sulla prevenzione per evitare che succeda per cui lavorando in abbonamento più tutto funziona meno lavoriamo e questo meno lavoriamo nel senso che fisicamente non è necessario allora ti faccio una domanda i clienti che hai no? sì come sono arrivati finora? ecco questa è la nota diciamo dolente ma anche se è il vantaggio noi abbiamo clienti che ce ne abbiamo da sempre nel senso da anni e anni quindi sono clienti che rimangono con noi che crescono abbiamo clienti che fatturavano che ne so 500 mila euro oggi ne fatturano 20 milioni e sono ancora clienti tutti col passaparola tant'è che l'obiettivo nostro in questi mesi abbiamo cominciato l'anno scorso è quello di puntare proprio a aumentare i clienti in modi diversi quello del passaparola perché abbiamo bisogno proprio di clienti nuovi questo almeno per massimi attività non ne avete fatte di nessun tipo attività promozionali abbiamo cominciato a farlo devo dire contattando delle aziende locali anche per farci dare una mano poi non so se posso dirlo ma ho scoperto penso che era un tuo che lavoravate insieme il merenda che ha detto una cosa che mi ha colpito per cui abbiamo cambiato strategia che un imprenditore è uno che fa marketing e legge i bilanci e quindi questa cosa che però sa leggere i bilanci per cui adesso stiamo lavorando da qualche mese cercando di portare internamente un minimo di competenze per fare delle attività interne di marketing tanto che adesso per esempio a fine mese abbiamo organizzato un evento sulla sicurezza informatica a Latina su cui stiamo facendo attività per portare aziende fisicamente quindi per parlarci direttamente e quindi abbiamo cominciato così abbiamo fatto qualche campagna sbagliando su Facebook su Google eccetera però sbagliando si impara e quindi stiamo andando in quella direzione abbiamo preso un cliente nuovo senza passaprola quindi sì vabbè no quanto vale un cliente nuovo ancora pochino nel senso che abbiamo fatto un contratto quindi diciamo che un contratto i nostri contrati vanno dai 700-800 euro all'anno fino possono arrivare anche a 10.000 euro l'anno contratti di sicurezza informatica di sicurezza e di assistenza tecnica insieme l'assistenza tecnica che significa invece l'assistenza tecnica facciamo sempre contratti in abbonamento facciamo sì che tutto il sistema informativo funzioni senza interruzioni quindi facciamo un help desk nel senso che chiamano i clienti che hanno problemi ma anche per cose banali del tipo la stampante sì sia a primo livello che secondo allora la cosa interessante ti ripeto stessa premessa dico delle cose che possono essere utili per tutti la cosa interessante di questa particolare posizione nella quale nella quale ti trovi è che sostanzialmente ha individuato il prodotto che può essere cioè il servizio che può essere prodottizzato e che quindi può diventare un prodotto che ha detto la sicurezza informatica è quella dove se avessi che ne so 20 volte in più i clienti riuscirei a sostenere l'assistenza magari un pochino più complesso però sostanzialmente si tratta solo di portare persone dentro e quindi il primo livello di lavoro del prodotto che può essere scalato l'hai trovato c'è però una sola problematica di questa tipologia di approccio è che questa tipologia di approccio deve avere due pilastri che vengono contemporaneamente sistematizzati sia il pilastro di attività vera e propria che il pilastro di marketing questi due pilastri devono essere sistematizzati contemporaneamente quindi non provare a fare delle cose e poi vediamo ma ci deve essere una metodologia sulla quale puoi fare affidamento perché in mancanza delle due cose crei un problema di crescita cioè per quale motivo la vostra azienda è cresciuta finora è che la grande dilemma tra attività di tipo professionale e attività di tipo aziendale è cresciuta perché tu prima mi hai detto sono cresciuti i clienti e quindi essendo cresciuti i clienti tu hai preso dei clienti da poco e li hai fatti diventare clienti da tanto e magari non mi stupirebbe se l'intera azienda sta in piedi con 90% dei soldi che vengono da 6-7 clienti per i quali voi siete la referenza di tutto qualsiasi cosa che ha a che vedere con un computer passa da voi a momenti vi fanno pure comprare i computer per i collaboratori attraverso di voi e quindi sostanzialmente c'è un account che viene allargato con la fiducia questa è una una tipologia di lavoro quando uno lo sposta a livello professionale e inizia ad avere dei contatti con tanto margine perché perché riesce ad inserire all'interno tutto qual è la chiave di questo la chiave di questo ne parlo spesso è ottimizzazione del margine cioè sai che per te non è facile avere un nuovo cliente quindi questo nuovo cliente deve valere tanto paghi un pochino di più in termini di complessità però ottieni la crescita che è quello che avete fatto negli ultimi 20 anni l'altro versante quello di dire creo un'attività più industrializzata se si tratta di servizi è spettacolare è la ricetta di crescita però si basa sul trovare un algoritmo che regga dal punto di vista professionale dal punto di vista promozionale e non sempre questa cosa è facile o possibile quindi qual è la problematica è che tu in questo momento ti trovi in mezzo e che quindi teoricamente se vuoi affrontare la strada del creo il prodotto scalabile e lo spendo devi investire tempo e soldi nel trovare la quadra dal punto di vista promozionale tempo e soldi per trovare la quadra significa letteralmente fare decine e decine dei test nei quali un po' modifichi le strategie promozionali un po' modifichi il prodotto fin quando non trovi l'equazione del tipo metto x e ottengo 12 clienti che mi sostengono l'azienda perché un prodotto di quel tipo che va dai 800 ai 10.000 euro cioè devi avere centinaia di clienti per farlo funzionare e quindi devi avere un algoritmo capace di portarti davanti a migliaia di clienti in modo tale destra di potenziali clienti in modo tale destra centinaia questa è la complessità del lavoro quando si dice che le aziende se ci sono delle aziende basate sul marketing l'errore fondamentale che viene fatto è quello di far tra virgolette percepire che tutte le aziende debbano essere basate sul marketing che non è vero esistono aziende che hanno dei processi di vendita molto lunghi che magari veramente riescono ad andare avanti semplicemente di storicità ma si basano su grandi commesse con grandi margini se crei un prodotto di questo tipo allora il lavoro più grande deve essere quello di creare un vero e proprio meccanismo di marketing che funzioni qual è la complessità di questo è che abbiamo vari livelli di punti interrogativi ora con buona pace del di quelli che fanno formazione marketing in realtà non è facile per un imprenditore imparare da zero una cosa completamente nuova e farla bene no ma non è facile per niente perché richiede un livello di esperienza e di pratica che non potrà mai costruire soprattutto considerando il fatto che sta facendo esperimenti con gli umani con la sua propria azienda che fai quindi in questo caso per me la migliore strategia da fare potrebbe essere quella di dare mentalmente un budget economico alla cosa essere cioè studiare per comprendere quello che viene fatto e delegare a qualche persona fidata che si occupi di testare un po' di strategie che vi dia una mano anche dal punto di vista strategico perché altrimenti diventa cioè sai io dico sempre questa cosa con i miei clienti che prima di escludere delle opzioni c'è bisogno che il tentativo sia un tentativo fatto bene completo no capisci quando ci sono persone che dicono partono con la campagna mettono la campagna su facebook la avviano non funziona ok non funziona ma prima di dire non funziona c'è bisogno di fare una serie di tentativi che sono quelli che ti fanno dire razionalmente cioè ci ho provato ho fatto quello che andava fatto e non funziona non lo puoi dire al primo tentativo cioè tu immagina il primo tentativo fatto da una persona che non sa quello che sta facendo che informazioni ti dà anche fatto da una persona che sa quello che sta facendo c'è bisogno di più tentativi io ho tra i miei clienti tanti che si occupano di campagne di campagne promozionali non esiste nessuno e sono gente che fa questo per mestiere che la zecchia il primo colpo quando succede viene celebrata perché è un colpo di culo no quello che invece funziona è un processo che dice prima fai questo cioè questa è la cosa che più che verosimilmente potrebbe funzionare facciamo funziona sì no che dati abbiamo ottenuto miglioriamo questo pezzo capisci questo processo è un processo che richiede tempo soldi conoscenze e attenzione e quindi non è nulla che un imprenditore possa fare da solo a meno che ovviamente non è un imprenditore che viene dal marketing e che fa questa cosa da cioè da markettaro no una delle cose che anni fa ho lanciato durante uno dei primi podcast che faceva questa questa idea del gene dell'imprenditore cioè un imprenditore di solito nasce o dal prodotto o dal marketing o dalla parte di finanza cioè deve sapere se sa una di queste tre cose riesce a tenere in piedi l'azienda tu sei un imprenditore di prodotto io sono un imprenditore di marketing barra prodotto perché entrambe le cose le ho fatte sia sin dall'inizio ci sono persone che sono degli imprenditori di finanza cioè gente che sa come funziona quelle cose lì e riesce a trovare un modo di far funzionare l'azienda quindi chi è che si può occupare direttamente di questa cosa un imprenditore di marketing può farlo io ho gli strumenti e l'esperienza per poter dire non farle direttamente le campagne perché nonostante il fatto che ho 23 anni di esperienza del marketing non so più mettere le mani sui tool perché c'è una cosa che si aggiorna ogni due mesi no e già questo ti fa pensare la follia degli imprenditori che pensano a mi voglio far da solo queste cose cioè io la prima volta che ho insegnato non studiato insegnato un corso di marketing a risposta diretta era il 2001 21 anni fa però le mani su queste cose non ce le metto ce le faccio mettere a chi lo fa tutti i giorni otto ore al giorno poi arriva una persona che fa il corso e dice ah mi faccio da solo questa cosa cioè un po' di superbia c'è dietro no se permetti un pochino un pochino di superbia c'è quindi il processo è quello ancora non sto parlando specificamente per te Giuseppe e questa cosa va vista cioè coi soldi finanziariamente ok perché quello è il gioco no mi viene in mente che servirebbe anche la capacità nostra poi di trovare anche il fornitore di servizi perché questo è un altro podcast perché in realtà proprio in questi settori la quantità di fuffology che c'è è enorme nel senso che sai per me uno dei criteri di valutazione del fornitore è che la leva sia sulla presenza di processi e non sulla bravura individuale perché il punto è come ti ho detto io ho tanti clienti che hanno agenzie di marketing anche i più bravi c'è una roba virale che gira su instagram che dice ma che mestiere fai x ma sei bravo e c'è una voce che dice sometimes good sometimes shit ecco uguale anche i più bravi è così quindi quello che distingue la differenza tra un fornitore di un certo tipo che un altro è la capacità di processi che rendono quanto più possibile replicabile e aumentano le probabilità che una cosa funzioni ecco molti molte persone comprano questi servizi con la quasi questa è colpa di chi ci fa il marketing sopra per carità però li comprano con questa con questo atteggiamento quasi da andare all'urdo del tipo ti prego salva la mia azienda trovando magicamente clienti e a volte questa cosa non è possibile a volte questa cosa non è possibile perché magari l'offerta non regge oppure perché magari non è effettivamente facile trovare clienti nel mio caso specifico cioè proprio nel mio caso specifico anche i più bravi non sono mai riusciti a trovare modi veramente ingegnerizzati e che scalavano di creare clienti io i miei clienti li trovo per cioè perché sparo con un cioè con una mitra cioè che io li trovo perché facciamo talmente tante attività che qualcuno esce fuori e poi siamo bravi noi a generare risultati e farli diventare clienti importanti però questa roba di dire spendo 100 euro io ottengo un cliente non l'ho mai fatto funzionare perché perché la debolezza della mia offerta ed è per questo che devo registrare i podcast che creo contenuti e che è una cosa difficile da comprendere poi una volta che la persona l'ha compresa io ho clienti nel mio programma quello di consulenza che si chiama confidential da quando l'ho aperto che sono ancora attivi no però comprenderlo è complesso e quindi c'è questo aspetto che purtroppo è una cosa che scopri solo vivendo e nella quale il test che hai fatto sui tuoi clienti non è un test valido e non è un test valido perché c'è la perché c'è la fiducia di base e quindi tu qualsiasi cosa gli dici cioè se tu vai lì e gli dici ragazzi qui ci serve dobbiamo mettere una statua davanti sopra il tetto perché le onde magnetiche e i computer funzionano meglio prendono e mettono la tua statua sul tetto cioè fine e quindi che cazzo di testa però provo ad andare da uno che non ti conosce a dire oh devi mettere la mia statua sul tetto così funzionano meglio quindi c'è c'è molta complessità dietro ed io andrei dietro persone che sanno dimostrare di seguire dei processi perché mentre c'è il genio al quale viene l'idea geniale e che è in grado di creare delle cose così un po' da fantasista quando ci sono casisti che come la tua non ci vuole il lavoro di fantasista ci vuole il lavoro di trattore cioè che si devono mettere lì e devono testare vari angoli varie modalità promozionali varie cose lo devono fare in maniera analitica consistente perché il fantasista una volta la spara bene otto volte la spara male e deve essere una cosa anche basata sui dati perché ad esempio c'è stato un periodo anni fa dove c'era un po' la moda di fare consulenza di marketing un po' così ad intuito no? tipo adesso ti dico Giuseppe secondo me dovresti fare un nuovo prodotto che lo chiami Secure Biz che fai senza basarsi sui dati senza basarsi su nulla e a volte funziona anche molte volte non funziona per un cazzo quindi per me nella scelta del fornitore è fondamentale vedere che ci sia un modo di lavoro sistematizzato strutturato fondamentale vedere già dall'inizio che sono in relazione con te in che modo sono in relazione con te cioè se hanno un processo organizzato perché poi nella scelta di queste cose uno diventa matto sai su cosa sul fatto che non sa niente cioè tu gli hai dato dei soldi e poi cioè passa una settimana due tre non hai nessun cioè se non li chiami tu non succede nulla quindi devono avere un modo di lavorare strutturato ti devono fare loro dei report ti devono parlare loro di quelle che sono le criticità devono essere loro a gestire la relazione perché perché tu cioè se gli stai dando dei soldi gli stai dando dei soldi per fare una cosa che tu non sai fare quindi non puoi essere tu a appingarli sempre prima hai parlato di proattività nella parte di sicurezza ci deve essere proattività nella parte di servizio quindi questo è un secondo criterio un terzo criterio è quello di cercare di avere dei referral che validino l'esperienza di lavoro proprio ieri mi viene da ridere perché ho pubblicato sul mio gruppo imprendilife su facebook andatevi da cercare si chiama imprendilife finita da imprenditore il fatto che erano andato a vedere avevo visto un sito di un'agenzia che offriva servizi di marketing e avevano messo tra i clienti soluzione del mio amico Marco Luzzo allora io ho mandato un messaggio dico ma se hai lavorato con questi come ti sei trovato e lui mi ha risposto dicendo interessante che abbiano messo il mio logo visto che io ho dato sto lavoro da fare ed in tre mesi praticamente non hanno fatto niente in tre mesi non hanno fatto niente e quindi questo è un pezzo fondamentale al di là di quello che le persone dicono avere un feedback vero di clienti che ovviamente sono cioè ti parlano della loro esperienza ora il problema è che tutti hanno qualche caso di studio da poter portare fuori tu nella parte di esperienza dei clienti invece devi prediligere in questo caso era banale no? perché fa schifo fa schifo però se fosse stato contento io non gli avrei chiesto informazioni sui risultati gli avrei chiesto informazioni sul processo di lavoro perché rimane questa cosa che a volte delle cose vengono bene si immettono dei prodotti dei servizi sul mercato che hanno una tempistica perfetta vengono bene si comprendono bene quindi in realtà chiunque ci mette le mani sopra è un genio però non è vero cioè è il prodotto e il servizio non è che il marketer andarlo a fare con prodotti e servizi in mercati che non hanno questo livello di prontezza e di adesione è un lavoro che richiede che la persona si mette lì e ci lavora sopra spero di averti insomma dato qualche criterio anche se poi in realtà è una cosa abbastanza complessa no chiarissimo ovviamente c'è un'altra complicazione proprio sul sul servizio in effetti la sicurezza informatica non è percepita ancora dai clienti come una cosa obbligatoria così come che ne so l'antifurto o la videosorveglianza questo è un'altra complessità all'interno della comunicazione di marketing questa è una complessità vera perché in realtà proprio a livello di animo umano le persone fanno molta fatica ad immaginare cioè a dare importanza alla prevenzione qualsiasi business che si basa sulla prevenzione avrà sempre sempre meno risultati dello stesso business che invece lo andiamo a basare su quando c'è l'emergenza esempio tutti vanno dal fisioterapista quando si fanno male prima stavo ci siamo sentiti nel pre nel pre podcast perché sto tornando a casa che sono andato dall'ortopedico che mi sono spaccato il ginocchio quindi andare dal fisioterapista quando ti fai male è semplice ma chi è che va dal fisioterapista prima per dire insegnami a fare bene i movimenti per potermi allenare senza farmi male cioè in proporzione ci sono mia moglie no? però in proporzione cioè nell'intero business del fisioterapista qual è il business delle persone che vanno per una questione di benessere è molto più piccolo non è inesistente ma è molto più piccolo quindi la la differenza tra un business che si basa sulla prevenzione e un business che si basa sulla risoluzione dei problemi è in questo elemento che è il livello di urgenza cioè qualsiasi cosa di prevenzione ha un livello di urgenza che non è immediato cioè tu puoi iniziare a fare cioè capisci se un tuo cliente firma il contratto di sicurezza oggi o se lo firma tra due settimane nella sua vita a parte se tu gli fai delle condizioni particolari al lato lato vendita però nella sua vita la probabilità che si becchi un un virus da qui alle prossime due settimane magari è zero non aiuta quando la persona c'è l'azienda bloccata perché c'è un ransomware sopra vedrai che ti chiama mezzanotte e se gli dici quanto costa diecimila euro prendeti dai diecimila euro no e quindi la problematica è questa proprio per questo diventa un lavoro di marketing comprendere quello che serve per potergli vendere questa cosa sai uno dei miei motti che dico spessissimo è che tutto si può vendere dati tempo e soldi infiniti però visto che tu tempo e soldi infiniti non ne hai devi fare in modo da capire in che modo fare far sì che cioè come gliela devi dire e su che canali quindi con quale spese per far sì che il costo di fargliela capire è inferiore al margine che hai cioè capisci con tempo e soldi infiniti tu riesci a vendere tutto a tutti no se proprio cioè immagina da un cliente vai lì ti piazzi lì in azienda lui sta 24 ore su 24 a ricordargli alla fine te li dà anche solo per toglierti fuori dai coglioni te lo dai il contratto però di fatto non puoi e quindi bisogna capire come operare su questi parametri che è la tipologia di prodotto servizio che offre come viene presentata l'offerta i canali che vengono utilizzati la tipologia di persone che che raggiungi e come gliela spieghi per far sì da trovare la combinazione che rende questa cosa economicamente conveniente perché altrimenti economicamente non lo è no tu hai un margine di ogni prodotto e a livello promozionale non puoi spendere più di quel margine alcuni prodotti per quanto ottimi hanno bisogno di un livello di maturità del cliente molto alto ed è ed esattamente per questo motivo che nel come nel mio caso io creo tanti materiali formativi perché perché contribuiscono a generare un livello di maturazione per far sì che quando poi la persona arriva a parlare con i miei collaboratori cioè è già passata da ma che me ne frega me della parte di organizzazione aziendale a ha interessanti queste cose che dice sto tizio ne voglio sapere in più quindi io poi da quello lì cioè da lì la riusciamo a gestire in una relazione di vendita se vendessi cioè se fossi un veterinario mi servirebbe molto meno prima perché cioè sono passato dal veterinario ancora prima di andare dall'ortopedico a me serve il veterinario cerco veterinario vado veterinario cioè finita lì cioè capisci mi serve la prescrizione per la medicina quella delle quella delle pulci quella che l'ha compresa quella che serve per le pulci e i vermi cioè devo per forza andare dal veterinario finita lì cioè non c'è però se il veterinario volesse vendermi una visita ogni tre mesi di per verificare lo stato di salute del cane me lo deve spiegare e quindi se ci mette due ore per convincermi ne vale la pena o no quindi questi sono gli elementi che un imprenditore deve andare a valutare quando lavora su prodotti servizi e in tutta sincerità nella mia esperienza non esiste una strategia di marketing che riesca a ad annullare completamente la mancata percezione di utilità di un prodotto o un servizio da parte del mercato perché diventerebbe una cosa veramente estremamente costosa per cui bisogna lavorare tantissimo a livello di a livello di marketing e magari puntare a tipologie di aziende per le quali questo livello di percezione è alto no per quali tipologie di aziende potrebbe essere potrebbe essere alto questa tipologia di problema magari per aziende che gestiscono dati sensibili quindi il commercialista o l'avvocato questa cosa potrebbe percepirla di più di quello che c'ha una macelleria oppure per l'azienda che ha processi completamente informatizzati per cui un qualsiasi blocco di qualsiasi tipo dei sistemi informativi significa che cento persone non possono lavorare no più è alta la percezione dell'eventuale problema che deriva dalla mancanza di come dire di che deriva dalla mancanza di prevenzione è meglio perché alla fine cioè da cosa deriva questa da cosa deriva l'istinto verso la prevenzione da tre elementi sostanzialmente il primo quanto vicino o lontano il problema quindi non riesce a convincere un bimbo di otto anni a non mangiare le caramelle perché magari poi ha 60 anni ha il diabete è troppo lontano è altamente probabile ma è troppo lontano prima cosa e l'altro pezzo che manca è che non è chiaro per le persone cosa comporta in termini di dolore il fatto di avere un diabete quindi al bambino per non fargli mandare le caramelle gli dici altrimenti hai la carie e devi andare dal dentista che è abbastanza vicino e abbastanza doloroso cioè in realtà andrà a farsi una carie paragonato ad avere il diabete è così verso così però per un bambino cioè farsi dover andare da dentista a dieci anni paragonato ad avere il diabete a 60 c'è una roba sulla quale non riesce nemmeno ad entrare nell'ottica quindi le tre chiavi della prevenzione sono enormità della problematica lontananza del tempo di quando si potrebbe verificare il problema no e rapporto di conseguenza no rapporto di probabilità cioè è certo o non è certo se analizziamo da questo punto di vista ad esempio la parte di sicurezza informatica è sicuro che se una persona non si occupa di sicurezza informatica sarà hackerato avrà problemi tu mi direi che è sicuro ma nella percezione della persona la persona ti dice io non ho avuto la sicurezza informatica per vent'anni qual è la probabilità che mi succeda domani mentre quello che è stato hackerato lui lo sa che succede nel tempo quando succederà questa cosa e tre quanto grave sarà quindi quello che gli è appena successo ha bloccato l'azienda per una settimana lo fa immediatamente c'era negli Stati Uniti un'azienda che si occupava di fare che si occupava di fare come si chiamano impianti impianti di allarme che praticamente avevano una strategia per la quale tipo prima di andare a battere una zona facevano il porta a porta nel periodo precedente facevano tipo il bollettino dei furti della zona e lo davano davanti alle case delle persone distribuito periodicamente a cosa serviva questa cosa a far sì che quando entri cioè se al tizio non gli hanno mai rubato in casa la probabilità che ti dica sì ok spendiamo 10.000 dollari per un impianto quanto è? Zero ma al tizio che per due mesi gli è venuta l'agitazione a leggere dei furti che c'erano stati nella zona nel momento in cui arrivava l'azienda e diceva buongiorno siamo qui per proporre i nostri impianti all'armi ci stavo proprio pensando in questo momento quindi questi sono elementi abbastanza chiave nella parte di prevenzione che possono essere o creati col marketing oppure possono fornire da filtro perché? perché ti vai a cercare le aziende che per una serie di criteri possono avere avuto questa esperienza quindi ad esempio potresti dire creiamo un prodotto di front end che è quello che risolve la problematica e a questo colleghiamo immediatamente la vendita della soluzione queste sono tutte ipotesi che si possono fare quando si lavora con problemi con prodotti o servizi che sono legati alla prevenzione se riesci a legarli al momento nel quale questa cosa viene vista cambia completamente le priorità dell'imprenditore perché a questo punto non è una cosa lontana del tempo nel tempo che non si sa se succederà o no e che non si sa se sarà un problema o no è una cosa presente che è successa e che abbiamo visto che è stato un problema è per questo che anche il cambiamento personale avviene i momenti di crisi è per questo che la persona smette di fumare quando gli viene l'infarto perché in quel momento quella cosa ipotetica di chissà se forse è una forte leva emotiva cioè non è più una probabilità non si sa quando nel futuro e non si sa che problema porta è presente nella vita della persona l'imprenditore è una persona wow Giuseppe abbiamo fatto quasi un'ora quasi un'ora di podcast allora chi volesse farsi visitare curare i suoi computer come si rintraccia adesso abbiamo un sito ma però nel nostro processo di vendita in effetti chi ha bisogno chiede a a qualcuno se quel qualcuno è già cliente nostro si chiama ho capito no facciamo ecco quindi loro e quindi è loro a chi dovrebbero chiedere a me quindi fa che gli dai dire i contatti perché io non c'ho voglia di gestire le richieste ho detto questo abbiamo un abbiamo il sito che è abbastanza esplicativo però bisogna arrivarci sul sito e appunto dici almeno il nome così ah startup scusa no ci chiamano startup pensavo di averlo già detto prima startup scritto app start app non startup non la startup quelle con up ma app app punto it punto it startup italia punto it quindi salutiamo Giuseppe salutiamo le persone che hanno ascoltato finora vi invito a fare tre cose prima andate su facebook e iscrivetevi al gruppo imprendilife vita di imprenditore secondo se ascoltate questo podcast su itunes su spotify mettete una bella review super positiva perché cioè se non vi piace e siete arrivati fino alla fine è un testament alla vostra non intelligente cioè perché dovete passare un'ora con me e poi non mi piace nemmeno quindi solo positiva terza cosa mandate una mail a clienti chiocciola imprendilife punto com perché sto lanciando un nuovo progetto che si chiama millionaire plan e vi voglio tutti on board all'interno di millionaire plan ci vediamo saluti ancora a Giuseppe e dalla prossima ciao ciao ti aspettiamo al prossimo webinar alla prossima